Il Comitato Territoriale di Consultazione della Direzione Cassa di Risparmio di Lucca Pise Livorno Banco BPM guidata da Matteo Faisola si è riunito per la prima volta nella sede di Piazza San Giusto a Lucca. I componenti del comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione di Banco BPM, sono scelti tra esponenti del mondo economico, professionale e associativo del territorio. Si tratta di un comitato con funzioni consultive e propositive e vuole favorire il legame tra Cassa di Risparmio di Lucca Pise Livorno e il territorio in cui opera. In questi anni così difficili per le banche, da una parte c'è la necessità di essere tutti grandi e strutturati per sostenere tutti gli operatori, dall'altra però altresì c'è la necessità di mantenere i collegamenti con il territorio in cui le banche sono nati, nel nostro caso con le tre città di Lucca, Pisa e Livorno. Quindi in quest'ottica noi costituiamo, facciamo ripartire anche dopo la fusione tra il Banco Popolare e la BPM il comitato al fine che anche in un istituto più grande si mantenga concretamente con esponenti dei tre territori di riferimento, nonché di tutta la Toscana, il rapporto con il nostro territorio che in nostro caso è la regione toscana. I componenti del neocostituito comitato sono il presidente Alberto Tumbiolo, Valeria Bruni Giordani, Giovanni Cordoni, Federico Federighi, Michela Fucile, Maurizio Gatti Dei, Francesco Lorenzini, Maurizio Manno, Alessandro Mennucci e Gabriele Nencini. L'organismo è chiamato ad esprimersi su attività di rilievo finalizzate a promuovere il radicamento di Banco BPM nel tessuto socio-economico locale. Ovviamente Luca oggi può contare su una banca ancora più patrimonializzata, ancora più possente dietro perché abbiamo creato il terzo gruppo bancario italiano e questo per noi è un tema molto importante. Stiamo procedendo a ritmi serrati sulla marcia dell'integrazione fra l'ex Banco Popolare e la BPM e quindi anche per la regione toscana ci sarà un potenziamento sicuramente nei servizi verso la clientela, ci sarà sicuramente una maggiore efficacia nella consulenza perché poi all'interno di questa fusione ci saranno anche dei cambiamenti sul modello di consulenza alla clientela, sul modello di servizio alla clientela corporate e piccole e medie imprese. Quindi l'obiettivo è, ed è già in dispiegamento assoluto, migliorare la nostra qualità e non solamente definirci nella terza banca perché siamo in classifica della terza banca ma anche come qualità e come anche soddisfazione della nostra cliente.